ciao con questo video apriamo una nuova serie di altri video su una piccola scheda chiamata blue pill che è questa che vedi qua davanti. essa è molto simile a un ordonino nano però con molta più potenza. monta un integrato un micro controllore della st microelectronics si chiama stm 32 f 103 c8 t6 la possiamo trovare su amazon su aliexpress e su altri siti su amazon costa 13 euro attenzione che potrebbero montare integrati clonati infatti nelle recensioni qualcuno lo dice che l'integrato non è originale ed ha problemi su aliexpress invece ci sono venditori che dichiarano se integrato è originale o meno il prezzo su aliexpress è molto inferiore 384 contro 1299 dopo bisogna vedere i tipi di spedizione a secondo del venditore esempio questo qui ha una spedizione gratuita e gli altri hanno un prezzo più basso e fanno pagare la spedizione ce ne sono due modelli con c8 finale e cb finale il cb finale a 128k di memoria flash il core del micro controllore è un arm cortex m3 una frequenza di clock di 72 megahertz è un lqfp a 48 pin 64 kilobytes di flash e 20 kilobytes di ram punta anche un oscillatore da 32 kHz per andare nel modo a basso consumo se non sbaglio si può usare anche per real time clock funziona a 3,3 volt ha dei pin compatibili col 5 volt dopo li vedremo aggiar su interno il regolatore per portare il 5 volte dall usb a 33 e blu infatti si chiama blue pill per questo motivo esiste anche la versione nera che si chiama black pill con dei piedini in meno andiamo a vedere le differenze con la tmega 328 che abbiamo usato finora con il led micro la tmega 328 lo troviamo su diversi arduino arduino 1 arduino nano eccetera eccetera i pin sono molti di più che adesso andiamo a vedere la cosa principale che differenzia le due schede la nano e tutto il mondo arduino con la tmega 328 e l'architettura che le stm 32 ha un'architettura arm a 32 bit i pin di io di soli io esclusi gli altri sono 14 per arduino e ben 37 per le stm 32 il pwm 6 contro i 15 la risoluzione pwm e ben 16 bit a 10 pin analogici con una risoluzione di ben 12 bit contro i 10 nel nano la flash memory e 64 quindi siamo al doppio la sram molto di più non ha la ee prom del quadro prom perché di solito in ambito industriale perché questi qui sono i microcontrollori che si usano molto in ambito industriale e auto voti lei e prossimamente esternamente in spiaio in quadro c la velocità di croc 72 megahertz funziona 33 metto prima a 3 ward seriali a 2 spi 2 quadro c supporta il can che è un protocollo di comunicazione molto usato in automotive e nell'ambito industriale per programmarlo si usa le st link si può anche usare un programmatore seriale su degli opportuni pin oppure usb però bisogna inserire un bootloader nel micro per poter usare appunto usb questo è un programmatore che troviamo su aliexpress a bassissimo costo questo qui è il programmatore originale st link questo qui lo schema di collegamento di questo programmatore che va anche ad alimentare la scheda i software che ci occorreranno per poter usare con ld micro iniziamo a vederlo con ld micro che può iniziare a scaricare tra i link in descrizione che poi nel prossimo video andremo a configurare per poterli usare ld micro bisogna scaricare questa versione qui modificata appositamente per i micro 32 bit sulla pagina di github di questo link troverai anche una versione 6 e qualcosa l'ho provata ma ha dei problemi a volte funziona a volte no sembrerebbe che funziona solo la prima volta che si apre il file dopo non compila più quindi usiamo la 5.5 come infatti consigliano anche altri basta copiarlo in una cartella quindi scompatti lo zip lo copi in una cartella e lo chiami magari redd micro 32 per differenziarlo da quell'altro degli atmega così ognuno ora anche i suoi settaggi ti servirà il software st link dalle 7 mic elettronic che userà ld micro per andare a programmare in comma online il microcontrollore i driver st link per il programmatore sia originale che il clonato utilizza lo stesso driver che poi scaricarlo sempre sul sito rest e poi ci servirà il compilatore arm questo qui è molto vecchio però la persona che ha compilato ld micro per la versione 32 bit dice di usare questo compilatore qua mette anche lì questo link qui in un provato versione più nuove potrebbero funzionare che c'è arm gcc li togli il 474 oppure come se più comodo che cosa che dopo questi link le dovrei mettere nei file il punto bat che andrà a lanciare ld micro questi sono 4 file scaricati con le dimensioni il più grosso è questo qui il compilatore che 103 mega e gli altri sono piccolini dopo che avrai scaricato questi ci vediamo nel prossimo video e faremo la configurazione dei file.bat e la prima programmazione con ld micro di questa nuova scheda lupil su cui svilupperemo poi anche un hardware plc o plc come dir si voglia su questo sito stm32base.org trovi molte più informazioni di quelle che ti ho dato io se vuoi approfondire in questo video è tutto ci vediamo e sentiamo al prossimo video non mancare ciao